L'attenzione ai poveri ci arricchisce, mettendoci sulla strada dell'umiltà e della verità, perché l'egoismo e le differenze sono sempre in agguato. Papa Francesco lo ha ricordato ai membri dell'Associazione Pro Petri Sede, ricevuti in Vaticano in occasione del loro pellegrinaggio. Dopo aver espresso gratitudine per l'impegno di servizio ai poveri dell'Associazione, il Pontefice ha ricordato che il numero crescente di persone marginate e che vivono in grande precarietà ci chiede uno slancio di solidarietà per dare loro sostegno. Ma, ha aggiunto, anche noi abbiamo molto da ricevere dai poveri che accostiamo e che aiutiamo. Alle prese con le loro difficoltà essi sono spesso testimoni dell'essenziale, dei valori familiari. Sono capaci di condividere con chi è più povero di loro e ne sanno gioire, come ho potuto constatare anche nel mio recente viaggio apostolico in Assi. La loro presenza, ha detto ancora Papa Francesco, è un richiamo alla nostra comune umanità, alla fragilità della vita, alla dipendenza da Dio e dai fratelli. Ed ha invitato tutti, in occasione della Quaresima ormai vicina, a chiedere al Signore di donarci un cuore misericordioso e povero, che conosca le proprie povertà e che si spenda per gli altri. Il prezioso dono portato al Papa dall'Associazione Pro Petri Sede, ha concluso il Pontefice, è un aiuto alle popolazioni duramente provate in diverse parti del mondo. Ed ha chiesto di pregare con insistenza per la pace, affinché i responsabili politici trovino vie di dialogo e di riconciliazione. Grazie a tutti.